Allora, non importa spingere, ce n'è per tutti. Se alzate le manine, ecco, senza venire avanti, io vedo che non le ha presa e vi si dà, ok? Allora Milena, io ti consiglio di andare proprio nel mezzo, vai, sì. Vieni direttamente Milena e anche il signor Luca. Potete andare direttamente lì nell'anfiteatro a dare i dolcetti. Vai! Vieni amore, guarda la tavola, guarda, 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 guarda. Ma chi si è? No. 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 Siamo? Mi sa che vanno fatte altre, vanno fatte altre, non si continua a macinare tutte le volte. Lei ce l'ha, lei ce l'ha, e lei ce l'ha, andiamo. Non so, no, è notcolo, è notcolo. Per mia figlia che deve nascere per il nome Messi? Per mia figlia che deve nascere per il nome Messi! L'avete avuti tutti? Alzate un po' le mani indicativamente e li faccio rifare a chi manca! Vieni aiutami invece di staffa la bimba! Vieni qua! Madonna! Madonna! Questo gnomo di presentatrice! C'è tutta c'è però eh! È un gnometto ma non aveva paura! Allora! Madonna! Si può sapere quanti manca? Un po' di mani alzate le faccio riportare dalla pasticcella! Uno? Due? Quanti? L'hanno avuti tutti? Tre, quattro? Sì! E quanti ne è? Allora! Vai tranquillo! Ci vanno a fare! 30 minuti per avere i dolcenti della Befana! Che è stata vagabonda e stanotte non li ha finiti tutti! Allora! E io l'avevo detto! Cosa è sta cosa qua? Lì! L'extraterrestre! Allora! Sì! Tra meggiore arrivano! Se vieni qua ve lo chiedi! Abbiamo anche Samantha! Ciao! Sono contenta di vederti tanto! Perché tra poco balleremo! Anche con Samantha e con la baby dance! C'è la Befana! Eccola la Befana! Ciao amore! Tu hai tutti i dolcetti? Ciao! Ma la campiono! Dopo! Dopo amore per te hai i dolcetti! Va bene! Per papà no! Per te sì! E per noi! Sì! 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 Ah! No! 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 Pia! 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 Sì! Pii! Il 3 e il 10 febbraio ci sono due feste di carnevale sempre qui in piazza Costituzione e faremo chiaramente di avere qualcosa di buono per i bambini, ci daremo da fare. Quindi 3 febbraio e 10 febbraio. Faremo sapere, chiaramente io penso che siano veglioncini, vorrei Daniele e Ferrini per avere la conferma. Dov'è? Maschera. Allora, sono sia il 3, lo ripeto, che il 10 febbraio, veglioni, maschera per grandi e piccini. Si farà trovare di tutto ormai. Posso venire io? Senza te non si vada a punta e parte. Allora, cedo il microfono alla presentatrice ufficiale. No, no, io mi sto. Bello vicino. Eccoci. Beh, una foto ufficiale, anche Daniele, una foto ufficiale con la Befana. Ah sì, Daniele. Foto ufficiale con lo staff. Daniele, vai. Abbassati un po', abbassati. Aiuto. Abbassati un po'. Foto ufficiale per questa Riva la Befana. Io direi che a questo punto possiamo salutare la Befana. Certo. Ciao Befana. Ciao me le mandi. Ecco, adesso è il momento di continuare con il nostro spessacolo. Viviana, sei pronta? Vado, vado a prendere, vado a prendere. Canti te, cosa ci canti? C'è un altro, è un altro spartotone. Lei deve salutare la Befana. Sì. Io ringrazio ancora l'amica Maria Marcacci, che ce l'ha portata l'amica. è un altro attimo l'amica Maria Marcacci, che ce l'ha portata l'amica Maria Marcacci, che ce l'ha portata l'amica Maria Marcacci. Un attimo, un attimo.